Rega durante la live barra video di F1 91 ecco qua oh mio Dio guardate rega La e canabaya e non so se è volontario o volontario forse voi il volume non lo sentite dalla tv perché sto lo abbattuto apposta per il F1 live video con il canabaya adesso a teleconaca fatta da me attenzione Alonso che va ad attaccare Giorgio Rassi attenzione si va all'esterno se lo prende in pieno lo prende in pieno lo prende in pieno e si alcanza con nei cronativi e forse la safety car però è virtual anche se mettono la safety adesso esco in modo della teleconaca e parlo anche con voi che sono in live barra video ci sarebbe bene qua ci sarebbe bene qua una bandiera rossa da come si è visto qua chiesto non c'è più comunque una bandiera rossa